Musica 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 Alla festa di oggi siete partiti con la tua specialità, la ginnastica. Sì, ci siamo cimentati in vari sport, partendo appunto dal mio sport che è la ginnastica artistica, abbiamo fatto qualche camminata sulla trave e poi abbiamo provato anche beach volley, calcio, rugby, un po' di tutto. Sei in splendida forma, questa splendida forma passa anche dall'alimentazione, per un'atleta che è molto importante, alla PMS Sport Camp avete anche distribuito la merenda. Quanto conta il fatto che i ragazzi, oltre a far sport, mangino anche in modo equilibrato? Conta tantissimo, infatti queste giornate sono fatte per educare anche in questi momenti di pet, infatti tra lo sport e la merenda in modo salutare siamo riusciti a dare dei consigli a piccoli sportivi e sportività. Tuoi obiettivi futuri? Quali appuntamenti hai verso l'Olimpiadi di Rio? Quest'estate di collegiali e ritiri allenamenti ci porterà verso il Mondiale Qualificante dell'Olimpiadi che è l'appuntamento più importante di quest'anno, dove appunto si qualificherà l'Italia ai giochi olimpici di Rio e poi l'anno prossimo, tanto per tanto, fino a poi ad arrivare a portare l'Olimpiadi. Grazie mille a Carlotta Ferlito e al Capitano Massimiliano Rosalino. Un saluto a tutti. Ciao, grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.